Adesso guardiamo un obiettivo da collezione soprattutto e secondo me un ottimo obiettivo per la Canon. Vedete un obiettivo da 50 mm che è stato prodotto con il TAP originale in occasione dei mondiali del 1982, per intenderci quelli spagnoli in cui l'Italia è risultata vincitrice del campionato del mondo. È un obiettivo interessante e piuttosto luminoso. Come potete vedere è un obiettivo da 50 mm con un'apertura del diaframma di 1.8, pertanto ci permette di lavorare anche in condizioni di luce più difficili. Come tutti gli obiettivi ovviamente ha il tappo Canon originale, vedete, dietro e questo chiaramente andava tolto per essere poi messo applicato sulla macchina fotografica. Ha questo tipo di struttura. Innanzitutto qui c'è il tasto da premere per, ora chiaramente non essendo applicato alla macchina fotografica risulta più difficile. Innanzitutto, scusate, facciamo così, analizziamo la prima ghiera. La prima ghiera ci dava una doppia misurazione, ed è la misurazione della distanza del soggetto da mettere a fuoco. Come potete vedere è segnata in doppia unità di misura, metri e piedi, ed andava da 0,6 metri a una distanza calcolata come infinita, vedete, 10 metri e infinito. Inoltre, qui, in questa parte qui, ci dava la possibilità di scegliere la condizione di luce. L'apertura del diaframma va da 1.8 a 22, quindi premendo questo tasto si girava, ecco, sto girando, vedete, e l'ho portata a 22. Questa è la sua apertura attuale. Se poi rigiro nell'altro verso, chiaramente ho sempre un po' di difficoltà, ma ce la faccio, l'apertura del diaframma cambiava. Obiettivo ottimo da montare su una Canon, da provare per chi ama fotografare ancora in analogico. Rimetto i tappi, che come potete vedere si incastrano, e l'altro tappo da collezione del mondiale del 1982.